La scelta non è stata facile perché le società hanno tutte una loro proposizione molto interessante, molto distintiva e veramente non è stato semplice scegliere per noi la più interessante. Il criterio che abbiamo scelto è stato quello di attenzione all'ambiente perché su questo tema noi ci siamo spesi da sempre e un'attenzione in particolare alla ricerca, quindi qualcosa di veramente nuovo, di veramente distintivo e che abbia poi una connotazione pratica molto reale, molto concreta e possibilmente immediata. Sorgenia ha accettato molto volentieri questo invito a partecipare come sponsor di questa iniziativa perché riassume molto bene i caratteri distintivi della nostra società. Quindi attenzione all'innovazione e attenzione alle cose nuove che si muovono rapidamente e che nel mercato crescono. Noi avremo la possibilità, grazie a Sorgenia, di arrivare a poter dare energia una volta che loro ci hanno dato l'energia per poter realizzare i nostri primi pezzi che vanno a inserirsi nel contesto urbano con la fornitura di energia pulita. Per cui l'emozione è proprio quella di far parte di un ciclo che nulla si crea, nulla si distrugge, un concetto di economia circolare che per noi è molto importante.